amici di radio francigena ci troviamo in dopo poggi bonzi abbiamo risalito un colle il mio fiato un po vi racconta insomma com'è andata e ovviamente uno potrebbe pensare non più difficile delle volte precedenti in realtà è tutto nuovo perché come vi ricordiamo stiamo risalendo la ciclo via francigena marrò stavolta in direzione colle del passo del san bernardo passo scusate passo del colle san bernardo avete pazienza la fatica fa insomma annebbia un pochettino anche le parole i ragazzi stanno quasi per arrivare io ho cercato di precedenti per raccontarvi questo momento e nulla tra poco tenterò